Sulla stabilizzazione del personale del piano di zona S8 con sede a Vallo della Lucania, lo scontro politico si infiamma all'interno del palazzo municipale e si apre un barco oltre i confini comunali. In una sola giornata, quella di lunedì scorso, la maggioranza ballese ha perso un altro suo consigliere e ha creato i presupposti per una lite istituzionale con l'amministrazione comunale di Agropoli. Il 2 giugno scadeva il contratto degli operatori del piano di zona e fino allo scorso weekend mancava una valida proposta per garantirgli il posto di lavoro. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, per superare l'ostacolo si è fatto avanti impegnandosi a stabilizzare il personale, chiedendo però di assumere la guida del coordinamento. Una sconfitta quindi per Vallo della Lucania, che è subito corsa ai ripari. Lunedì, l'amministrazione del sindaco Sansone, per continuare ad esercitare il ruolo di capofila, si è assunta la responsabilità di garantire tutti i servizi dell'ambito, deliberando in giunta la prosecuzione del rapporto di lavoro di tutte le figure professionali già in servizio, per evitare appunto l'eventuale interruzione del servizio pubblico. E non pare che il sindaco di Agropoli abbia apprezzato lo sgambetto. Il tir e molla sul piano di zona ha convinto il consigliere di maggioranza, Loredana Moscatiello, a prendere le distanze dal gruppo, un passo che maturava da tempo. Sempre lunedì, infatti, ha rimesso la delega alle politiche sociali nelle mani del sindaco Vallese e si è dichiarata indipendente. Insieme all'altro dissidente, Nicola Botti, era per la costituzione del Consorzio per le politiche sociali, ritenendola anche una valida soluzione per la stabilizzazione del personale dopo anni di incertezze. Sono stata delegittimate nel ruolo che mi è stato dato, ha dichiarato. Per Sanzone un'altra delega da riassegnare, forse per un po' nessun altro dovrebbe abbandonarlo. In questa storia dei servizi sociali ha però conquistato la fiducia del capogruppo di opposizione, Marcello Ametrano, che ha condiviso il progetto della maggioranza per evitare che Vallo perdesse il ruolo di capofila.